Un racconto fatto di fotografie e testimonianze dirette di tanti cronisti che hanno seguito giorno dopo giorno la tragedia del crollo di Ponte Morandi a Genova, dal giorno del disastro e del funerale delle 43 vittime fino ai giorni recenti con l'avvio della ricostruzione. Ecco in sintesi lo speciale di cronaca di un anno di cronaca edito dal gruppo Cronisti Liguri e pubblicato a poco meno di un anno dal disastro. Le prime immagini del crollo che ritraggono i soccorritori quasi smariti di fronte a una situazione che si riteneva impensabile. Poi i volti delle 43 vite spezzate in quel maledetto 14 agosto 2018, il giorno di dolore del funerale e ancora le fiaccolate e le manifestazioni di una Genova, anzi di una Liguria che grida forte l'orgoglio di voler subito ripartire ma che al tempo stesso vuole sapere perché vuole giustizia. Un volume con tante testimonianze, quelle dei cronisti come sempre in prima linea sotto l'acquazzone che quella mattina della vigilia di ferragosto si abbatté su Genova, peggiorando il lavoro dei soccorritori. Storie di giornalisti che si trovano innanzi a persone che non sanno ancora che uno dei loro cari è rimasto sotto alle macerie e provano a rassicurarle come possono. Storie destinate a segnare la vita di chi le ha vissute, un inferno di macerie nel quale non manca a volte un miracolo per una vita strappata alla morte e matura la consapevolezza che comunque Genova non sarà mai più come prima. Il lavoro dei giornalisti si sposta poi sull'inchiesta giudiziaria e sui molti dubbi legati al Ponte Morandi già affiorati decenni prima, con il confronto quotidiano con una città ferita, un dolore che culmina nel giorno del funerale delle vittime tra commozione, applausi e fischi. Un altro dolore si aggiunge dopo, quello di coloro che devono lasciare per sempre le abitazioni sotto i resti del ponte, un esodo che qualcuno paragona a quello di reduci di guerra. E infine arriva il momento dell'inchiesta giudiziaria, con la necessità di raccontare quanto accade senza diventare vendicatori e lasciarsi vincere dalle emozioni. E con la stessa lucidità si va avanti a scrivere e parlare della ricostruzione e del futuro, perché una cosa è certa, Genova non sarà mai più la stessa, ma comunque risorgerà.